Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un'episodio di Doran Reb Come vedete oggi siamo con Alvis e Arcanthos su Worms Mamma mia, mamma mia Dopo tanto tempo siamo ritornati con questo bello videogiochino Ok, peccato che oggi non c'è Alemaine perché è un Pinocchio e quindi lui non c'è Ok ragazzi, siamo su in Arabia Camerotto e prima di iniziare Arcanthos Mussolini, chi è Mussolini? Io! Io! Che Mussolini! Come vuoi fare? Non ho mirato! Eh, devi premere E Ragazzi nel prossimo... Complimenti, complimenti Non lo sapevo Allora ragazzi nel prossimo episodio io e Arcanthos faremo un nostro esercito di vermi Visto che Alvis ce l'ha e a lui ancora no Nel prossimo episodio io e Vi si è rimasto con 24 hp perfetta sei fortunato oggi toccato al canto stracare al canto ora non vediamo perchè siamo simili capisco non ti ho visto anzitutto no già a pezzo è diverso ma questa te la c'è una roccia proprio no non è vero perchè noi stiamo mostrando il nostro amore in questo modo oh chissu carol oh carol cadetto carol un mafioso di napoli arcanthos che prova ad uccidere qualcuno vediamo ah uccidi questo vada cadetto arcanthos quello devi uccidere no no non ho fatto mai niente di male io vai sulla mina guarda ma dopo questo c'è questo dopo devi prendere questo tu si prendo questo ma che cosa sto dicendo guarda il secondo tuo vero il secondo verme è quello ah tu dici ah è vero è vero si no 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 sai lo dico è quello vai hitler è il tuo turno ma hai giustato villager si va al 4 e io ho messo il nome buono ah ok ok perchè buono mi sembra ma sono io buono non so che che cosa fa lei se no bronzo spero che sopravvivi è stato affrontato è ecco qua è impossibile aaaah ti posempo oh carol non era abbastanza forte allora tocca a me va bene lo sa usare proprio guarda ma tengo 2 hp con quello prima muore ah muore con il veleno no rimane con 2 hp eh ma quello solo io No, che ci fa No, Valè, veramente Solo tu Ma sei proprio idiota Stresce proprio Un applauso per favore Dalla regia, parte un applauso Regia, applausi, regia Applausi per Valerio Ma mi sono dimenticato che io sono il verde, il russo Perché ti sei preso i miei stessi fermi? Vabbè, però c'è la... Ma come sei aggressivo? Buono, non ti ho mai detto Stai mirando in faccia Eh, devi colpirla due volte Vabbè, è bello che noi vediamo alle volte Ho sparato due volte Pisello? Eh, non lo sapevo Non lo sapevo Non lo sapevo Ci da tambaci Eh, domenette Troppo lontana Troppo tempo Ci mette Agivaci 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 Guardi come si protegge Agivaci Agivaci A volte indicano anche gli altri geki Eins Agivaci Genna Why? Agivaci Ed ecco il turno di Valerio Attenzione Eh 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 Stalin èo Letta Il capitano Stalin Hai fatto il cattivino E questa è una guerra Pasquale contro Alvis contro Donald Red Il basso, lo buttiamo a mare e muore Oh si Wow, ti ha chiamato proprio Wow, ti ha fatturato a camè Cadet e Gitton flette i muscoli Basta, armano, non usi le zambe per me Ma non accanirti su di me, vai su Alvis Ce l'hai anche in sopra Ma tu sei vicino a me, che cazzo Ce l'hai in testa Alvis Guarda c'è il puntino blu nella mano, ti odio Vediamo se è tattano Tocca ad Alvis Tocca a me Aggressivo Vediamo chi è Credo Bin Laden Complimenti, hai attivato la mina Ah, giochi in merda Allora, mi ricordo che il verde sono io, perfetto Ok Il rosso sono io e il blu è Alvis Guarda, metti in mezza Cadet, Dobson e Gitton Ah, vai, ti metti in mezza così due Oh, perché vengono da me, perfetto? Sì, scusa Come hai, Franci, mi raccomando? Tu metti in mezza, no? No, ragazzi, una C'è questa pallina? Quale pallina? Questa pallina qua... Ah, è qua dove non muore Ah, e se la prendi? Non puoi prenderla, puoi prendere l'energia però No, amici, in attesa, prendi C'è il tempo, lo sai questo Sono russi Guarda c'è Alvis Ciao Da Valerio, guarda Valerio Guarda Mi disse che è un amico Per prendere la mina devi premere Che cazzo fa? Eh, tu fa un press, è giù Lo scopisco Perché mi è mislain, si fa scherzo Alvis Il tempo, è il tempo È il tempo È normale Allora Arabo basso ma mariano Il momento giapponese di Francesco Con qui io tengo Due No, ce n'hai tre tu Anche io ce ne ho tre M'ho visto Come fai? Ah, perché c'ho tutte e tre Ho capito Ce la fai? Non mi dai Oh, dai Tanta cattiveria Pam Col fucile a cecchino Ua 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 Tanta Ok ci sono ci sono Ci sono Ci sono tutti gli amichetti Ah Tutti qui vicino siete Oh Oh Due armi disponibili per Alvis Oh Sai che faccio adesso? Andiamo così Oh 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 Mio Yosky Matryosky Yosky Matryosky Russi Cosa Sai che c'è Yosky Matryosky Sai che c'è due vermicelli vicino Oh Un HP Ah uno un HP Gli altri Boh No No Ah Mazzo di merda Vada vada Billate Indica pure chi Hai visto con il dito che ha fatto? Che poi ha preso anche te Di cacca siete? Eh Più o meno si Ha il vantaggio territoriale Hitler Si Bravo Hitler Vai Oh Non ci vedi proprio? Saluto l'hk A me Che la bomba ha sonpato Guarda una volta questa visuale confonde Allora c'è Billaden Eh È il tempo eh Non devo stupare È il tempo C'è il tempo 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 Che lo ha tenendo Ha 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 È vero mi ma ci Mamma mia Disse il creatore dei giochi Di una cosa? Fa tutta bomba Vuole lanciare Hitler lontano da Miglia Andiamo se ci riesce Oh, mio Dio Che culo, che culo A parte di... Vabbè, vaffanculo Ti indica i pugni Vole prendere le mazzate Ora il verme di Punisce quello di Accanto Questa pure è vicino Vado Che palla è questa Guarda, guarda, qua vicino Mamma mia Ok Ma è morto uno È morto uno Fuori uno Solo un altro con 20 HP Accanto sarei prima di uscire, mi sa Ma entra tu Ma ti va a nascondere No, la cura volevo prendere Quanto ce la fa? Vai, ce la puoi fare Ce la fai, vai Vai, vai, vai Che c'è la fa Ma dove sta? Che cazzo ne so? Non so meno dove sta Ah, mo sta bene Ah, sta sopra, no sotto Dove andare sopra Manage Qua Qua Perdi denbo Perdi denbo L'ultima cassa che arriva alla cassa No, 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 ho capito L'ultima cassa che arriva alla cassa Accanto Lei è morto Eh 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 assumption Punizione divina Meno Chi è matto Eh eh Riposa in pace Ecco Francesco muore Extra Arcanthos Ecco Esce dalla partita così ragazzi Fuori uno Ora tocca ad Elvis perchè Doran Redd non deluderà il suo pubblico no, perderà diverso oh cacchio, ma tu c'hai tutta sta vita? si ho due da 100 e uno da... tipo ma perchè io non faccio la guerra contro tu no perchè... sono più forte tu per pugno no, no, no non picciarmelo no e addirittura il bazooka sta di prepotente eh, me ne sono accorto un albis prepotente contro il mio verme riposa in pace cadet dobson riposa in pace ora tocca a Doran oh c'è uno scatolino qui, vediamo cosa esce che cazzo è? non so a cosa serve sono un po' esagerato dai, dai la bistecca ha funzionato spediamo eh ora ci sarà questo uno contro uno mi ha chiamato anche kamikaze ragazzi mi è morto guarda, la pecor no, non è la pecor no no maledetto maledetto e vince no, no vince lui vince mi sa con il culo rotto che ha la grande squadra la grande squadra dei bistatori vince tutto nelle sue mani bene ragazzi l'episodio finisce qui ci vediamo la prossima volta speriamo che il prossimo video con Worms ci sarà anche alle mine così saremo tutti e quattro insieme bella a tutti ragazzi ciao bye ciao